Buone notizie per la provincia di Cosenza perché, come ha dichiarato la presidente Rosaria Succurro, quella cosentina con 75 milioni di euro è la prima provincia in Italia per capacità di spesa dei fondi del PNRR. Una squadra che lavora, una squadra compatta, una squadra che fin da subito ha organizzato nel migliore dei modi istituendo un dipartimento e un dirigente al PNRR. Questo vuol dire che quando ci si crede nei progetti si ottengono degli ottimi risultati. Una ricaduta fondamentale per la nostra provincia e per la nostra regione. Parliamo per la maggior parte di progetti che riguardano le strade e le scuole e quindi una ricaduta economica ma anche in termini di servizi proprio per il nostro territorio. Con questo risultato la provincia di Cosenza ha dimostrato di essere un ente virtuoso per capacità di spesa e inoltre quelli impegnati sono oltre 200 milioni di euro. Quindi da qui a breve avremo anche tante altre opere finanziate che, come dicevo, danno un valore aggiunto al nostro territorio e soprattutto ai servizi che andremo ad offrire. Dato quello riportato dalla provincia di Cosenza che, come ha aggiunto la Presidente Rosaria Succurro, sfata un tabù per le amministrazioni del Mezzogiorno d'Italia. Questa volta la provincia di Cosenza è in cima a quella che è un elenco di enti virtuosi che hanno avuto la capacità non solo di intercettare i fondi ma anche di spenderli. Accanto alla capacità di spesa un altro elemento che caratterizza questo risultato, l'innovazione nella progettualità. Infatti fra questi va citata senza ombra di dubbio il liceo scientifico Fermi della città di Cosenza. Un edificio con standard di costruzione sostenibile più elevati.